Grazie alla generosa donazione dei collezionisti Giuseppe e Gabriella Ferrero, dal 23 giugno 2023, i musei reali presentano una nuova sezione permanente della Galleria Sabauda, dedicata alle ceramiche della manifattura torinese Lenci. Il nuovo allestimento, realizzato in collaborazione con la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino, è composto da 132 opere, ideate da 17 artisti che hanno operato per la manifattura Lenci, nella sua fase più creativa, tra il 1928 e il 1936. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!